La città dei bambini e delle bambine nasce proprio con questo intento, portare la voce dei bambini a tutta la città. All'interno delle nostre scuole c'è davvero il capitale di speranza per il nostro futuro e allora è importante che la città diventi sempre di più a 360 gradi dei bambini e delle bambine. Per l'evento di oggi si vedrà impegnati più di 30 classi che hanno partecipato ai nostri laboratori durante l'anno e hanno prodotto dei quadri, dei disegni e hanno raccontato i loro vissuti in maniera così splendida che abbiamo deciso di portarli in piazza. È importante che la città possa diventare una città educativa, ovvero che i muri delle scuole idealmente si proiettino lungo tutto quanto il perimetro urbano, perché è importante che i messaggi fondamentali educativi che passiamo e gli insegnanti passano all'interno delle scuole siano reiterati e siano coerenti all'interno di tutta la città. È stato bellissimo vedere i bambini non solo praticamente invitati ad approcciarsi al mondo dell'arte ma vederli invitati a costruirsi come cittadini, fare una riflessione proprio di cittadinanza attiva in modo da rileggere l'opera dei Vernica. I laboratori sono molto diversi, ci sono laboratori d'arte e ci sono laboratori dove invece trattiamo temi un po' più impegnativi, uno di questi è dalla Vernica alla Colomba della Pace, dove trattiamo proprio il discorso della guerra e la necessità di far diventare la pace non qualcosa che sta in mezzo a due guerre, ma qualcosa che deve essere una cosa naturale e nei bambini questa cosa è esponenziale, nel senso che per i bambini veramente la pace è qualcosa di naturale, loro non la capiscono la guerra. Mi ha intenerito e mi ha stupito questo limbo, mi ha detto ecco voi avete fatto vedere tutto questo per farci capire che i muri non possono che portare nulla di buono quando dividono e gli esseri umani. Costruire i barchetti di carta ha voluto dire per noi ritrovare questo significato contemporaneo di questi tempi, perché i bambini spesso ci hanno parlato durante i laboratori di quello che è accaduto nei barconi di Cutro e quindi ci è sembrato importantissimo riportarlo qui in piazza portando proprio questo significato che le barche vanno ostinatamente verso la pace.